Il nostro speciale natalizio in questo 24 dicembre prosegue. Vogliamo adesso aprire una finestra sulla scuola, sul Natale a scuola. Lo facciamo grazie alla disponibilità della preside dell'Istituto Marcelline di Foggia, la professoressa Stefania Tetta. Benvenuta. Grazie, grazie per avervi invitato. Tanti auguri di Buon Natale, possiamo scambiarceli senza problemi. Allora, parliamo del Natale a scuola. Come la vostra scuola si è preparata a questo periodo importante dell'anno? Dicembre è sempre un periodo magico per i nostri bambini, ma per tutti i bambini. Per cui tantissime sono state le iniziative che hanno accompagnato i bambini in questo percorso, in questo percorso di attesa, di scoperta, di un evento che poi, anche se si ripete annualmente, ma è sempre nuovo e porta con sé un carico di aspettative notevole per i bambini. E quello che cerchiamo di fare è far assaporare questo cammino, questo percorso. Questo percorso che vorremmo, ovviamente crescendo soprattutto, perché noi abbiamo bambini dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado, quindi ognuno per il proprio percorso di crescita, fa un viaggio alla scoperta, al cambiamento, anche perché è quello che abbiamo cercato di fare. E anche al piacere dell'attesa, cosa che in questo periodo per i nostri ragazzi che vivono in questo mondo fast diventa difficile, ma l'attesa, l'attendere, un evento piacevole, un momento, un cambiamento diventa importante per tutti quanti. Quindi ogni ordine lo ha fatto a modo suo, dal nido con una piccola rappresentazione, anche all'asilo. In prima elementare invece abbiamo realizzato il presepe vivente, quindi tutta la scuola si è trasformata in una piccola Nazareth, quindi con il bambino che arrivava a Bethlehem. E poi alle scuole medie invece e negli ultimi ordini della scuola primaria ci sono stati i concerti di Natale che per noi rivestono una grande importanza, perché attraverso il coro, attraverso l'unione ogni bambino apporta qualcosa di sé e insieme si cantano delle ludi e si riescono a creare delle melodie meravigliose. Quindi per noi questo riveste una grande importanza, oltre alla celebrazione che condividiamo con tutti i genitori. Ecco, professore Statetta, allestire un presepe, organizzare un concerto di Natale, sono tutte attività didattiche anche, quindi possono essere lette appunto su vari livelli. Ogni anno ci ritroviamo, approfitto anche della sua presenza come preside, di fronte alla questione presepe nelle scuole. Presepe sì, presepe no, canto con la parola Gesù bambino sì, oppure l'ultima, quello che è successo ultimamente, delle scuole, le maestre di una scuola elementare tra Venezia e Padova hanno chiesto di cancellare una strofa per non offendere i bambini non cattolici, una strofa di un canto di Natale. Una bambina di dieci anni ha fatto una petizione, ha raccolto delle firme e ha ottenuto che nella recita di Natale il brano venisse cantato nella versione originale, quindi ci fosse la parola Gesù. Che lettura dà di questi eventi, di queste questioni, una sua parola personale? Allora, prima di tutto che dai bambini viene sempre la soluzione migliore. Da loro vengono le risposte più naturali che a volte agli adulti non verrebbero mai, per cui è bastato che ad una bambina venisse fatto notare una cosa del genere, oppure lei lo percepisse come qualcosa di non positivo o non coerente con il messaggio che si stava comunque vivendo, che ha realizzato un piccolo miracolo, se vogliamo. Il discorso della scuola è molto complesso, perché ogni dirigente scolastico ha un atto di indirizzo che dà alla propria scuola e quindi, di conseguenza, ritiene più o meno importanti determinate cose, come il discorso del crocifisso o di festeggiare determinate ricorrenze. Però questo è soltanto un aspetto marginale, perché poi non si va a guardare alla sostanza dell'evento o della cosa, in quanto ogni scuola, ogni persona deve poter essere libera di esprimere quello che è il suo credo o quello che è in realtà pensa del quotidiano, rispettando tutti gli altri. Pertanto, nel nostro caso, per esempio, essendo una scuola cattolica, il genitore ben sa cosa aspettarsi, qual è il nostro indirizzo, che cosa proponiamo, dei valori che poi sono tipicamente civili, più che cristiani, oltre che cristiani, e nel rispetto di tutti. Noi abbiamo avuto anche bambini iscritti di altre religioni, senza per questo sentirsi turbati né dalla presenza del crocifisso, né da tutte le celebrazioni bellissime che abbiamo all'interno della nostra religione. Se vissuti, ovviamente, con uno spirito, con lo spirito vero, insomma, dove non si fa di tutto un grande clamore, senza che ci sia sostanza. È bello anche pensare come il presepe possa davvero rappresentare un inno universale alla vita e all'infanzia, quindi la bellezza della vita, la bellezza anche di essere piccoli, di essere innocenti come i bambini. E poi leggevo il passaggio di un insegnante sul fatto che il presepe si assiste ad una processione di adulti di diversa provenienza, estrazione sociale, di diversa storia, dai remaggi ai pastori. Quindi anche questo è importante da sottolineare e da comprendere. Professoressa, sono 120 anni che le Marcelline sono presenti sul territorio come scuola. Sì. Qual è la vocazione dell'Istituto Marcelline? Allora, la vocazione è sicuramente quello di prendersi cura e di formare i bambini che vengono affidati dai genitori, perché poi la nostra scuola è una scuola che viene scelta dai genitori. Pertanto c'è proprio una presa in carico da parte di tutta la comunità educante che lavora all'unisono per la formazione integrale della persona. Infatti il Beato Luigi Biraghi, fondatore delle Marcelline, sosteneva, ripeteva sempre alle suore che bisogna avere di mira due cose, l'istruzione chiara della mente e la cultura del cuore. Cioè avere, sì, i bambini devono sì avere una cultura soda, un'istruzione buona, però dobbiamo stare attenti alla formazione integrale della persona. Questo valeva più di 100 anni fa, visto che quest'anno c'è un'altra ricorrenza importante, sono i 180 anni della congregazione delle Marcelline. E valeva 180 anni fa, o 120 come nel nostro caso, come è attualissimo oggi. Quindi in un periodo storico in cui poca importanza si dà al guardare negli occhi al bambino, ad attendere i suoi tempi di crescita e di evoluzione, leggere un messaggio del genere è di grande importanza. Noi dobbiamo prenderci cura di questi bambini, ma anche delle famiglie, perché poi il percorso si fa insieme alle famiglie, perché altrimenti se c'è uno scolamento tra la realtà scolastica e quella familiare, ovviamente il bambino ne approfitta. E quindi non c'è più l'educazione, non c'è più quella formazione integrale. Invece in accordo con le nostre famiglie si fa un percorso e si cerca di sviluppare al massimo tutte le potenzialità che il bambino ha in sé, per potergli poi offrire l'acquisizione di quelle competenze che gli serviranno un domani, ma anche nell'essere oggi dei bambini sereni e felici. Appunto lei parlava dello stupore, della bellezza del presepe. Consideriamo che Gesù non è nato in una città, non ha fatto dei clamori eccellenti, ma è nato fuori dalla città in un contesto ameno e ha voluto che invece ci fossero delle persone che andassero a lui e dove si creasse una relazione, quindi il desiderio dell'incontro da cui poi nasce tutto il resto. E così a scuola è la stessa cosa. Se si instaura quella relazione, se si crea quell'empatia, il bambino darà il massimo, il bambino l'adolescente, perché si sentirà accolto, accettato, amato e per lui sarà fondamentale nel processo di crescita. È proprio così. In conclusione, come preside, come mamma, che cosa si augura per il futuro della scuola? Sicuramente che si sviluppino le competenze della speranza, che in realtà non sono cristiane, cioè ci sono degli studi che sono portati avanti non soltanto in America ma anche in Italia sull'importanza di riuscire a guardare con occhi differenti tutto quello che accade. Ed è questo che dobbiamo dare ai nostri ragazzi, la capacità di guardare attraverso le difficoltà, la possibilità che ci sia un cambiamento effettivo, di lavorare perché ci sia quel cambiamento, quindi senza pianistei, senza lamentele inutili, ma di rimboccarsi le maniche e di trovare sempre la soluzione, perché la soluzione c'è a tutto. Quindi avere questi occhi nuovi con cui guardare alle difficoltà. Beh, accogliamo queste sue parole anche come un bell'augurio per il futuro, ma anche per questo Natale che sta arrivando. Grazie alla professoressa Stefania Tetta, preside dell'Istituto Marcelline Affoggia, grazie per essere stata con noi. Ci colleghiamo ora con Leonardo Fania, dalla Casa per Anziani Padre Pio, qui a San Giovanni Rotondo. A te Leo.